Riorganizzazione della raccolta nelle aree a nord, ovest e sud della città e nelle zone industriali di via Calamandrei, Pratacci, Maspino e Sanzeno e arrivo dei cassonetti monovetro. Sono queste le principali novità annunciate dal comune di Arezzo e da Sei Toscana con l'obiettivo di incrementare da un lato la raccolta differenziata di qualità e dall'altro migliorare il decoro urbano e garantire una miglior vivibilità e friabilità della città. Siamo passati, sottolinea l'assessore Marco Sacchetti, dal 40% del 2018 al 55 del maggio 2022, a dimostrazione della bontà delle scelte effettuate. Nello stesso periodo abbiamo poi riscontrato una sostanziale diminuzione degli abbandoni e un incremento dell'utilizzo del servizio a chiamata per il ritiro degli ingombranti. I prossimi interventi dunque riguarderanno le zone esterne nord, ovest e sud e le zone industriali dove ci sarà una riorganizzazione e razionalizzazione dei calendari di conferimento del porta a porta con l'introduzione del mastello per i rifiuti non riciclabili con sistema di riconoscimento dell'utenza, che consentirà quando il nuovo sistema andrà interamente a regime di introdurre progressivamente una tariffazione puntuale. Nel 2023, infatti, è previsto il completamento della riorganizzazione in tutto il territorio comunale con il passaggio al monovetro anche per la raccolta stradale d'accesso controllato ed il conferimento tramite SeiCard. L'obiettivo che SeiToscana si è data, commenta poi il presidente Alessandro Fabbrini, è coinvolgere le persone abituandole a differenziare il più possibile e riducendo in modo drastico la quantità di rifiuti non differenziati.